Questo programma contiene linguaggio volgare, un po' di sofferenza e scene che alcune persone potrebbero trovare offensive. Spiega, te lo spiego questo, ma ascolta queste parole, ascolta, ascolta, perché siccome non ti capisco cosa fai, ascolta queste parole, tu col tuo pretesto, eh lo sai, di fare la tua cazzo di crociata con i caricatori infiniti e i glitch e tutte quelle stronzate lì, è solo pretesto per fare praticamente prevalere la tua autorità, per fare quello che cazzo vuoi nei server degli altri, per poter approfittartene dei survivor che veramente sono in necessità, te e i tuoi nå oh i spari, ho un po' ballot, né? Stai a tutti i fatti! Si! Si! Fai shooting! Oh shit! This guy's shooting! Oh shit! The purple guy! che ne vanno? che ne vanno? che ne vanno? uno è forte l'odone? marcia dentro come up ok ok, come up si, si sono quello devo dire C'è un po' di... no oh no No, 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 no No, 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 no Ma sono, però, in me, la sessione Ma, c'è per qui, io andiamo a rompere qui Un momento da un maletto No, 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 no C'è che stanno col violone No, non è che sta arrivare, dove il cazzo era? No, non è che qua, non è che qua Ma non è che qua, non è che qua Non lo posso vedere, non è morto Chi è il gamba? Chi è il gamba? Giù? Si Grazie Guardate 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 And I feel I'm knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door It feels like I'm knocking on heaven's door It feels like I'm knocking on heaven's door Knock, knock, knockin' on heaven's door Sì, mamma, va a te l'affanculo, va Oh, knock, knock, knockin' on heaven's door Feels like I'm knock, knock, knockin' on heaven's door Knock, knock, knockin' on heaven's door Fizia, figlia, sei bellissimo Scusate, no siamo noi È uscito benissimo il video, comunque Occhio al Cecchini Tu darai alla gente un ideale al quale ispirarsi. Correranno con te, vacilleranno, cadranno, ma col tempo saranno accanto a te nella luce. Col tempo li aiuterai a compiere meraviglie. Controfiare No Ciao stavolta Spariamo in testa per te Se è francese le parlo in corretta Niente La prima volta che è camminata la rata francese è morta Sono vicino alla chiesa Vediamo Che vedi Non che riposare Zata Mon titolo Molto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Bella cazzo che non ho visto. Seicento, seicento, sto cazzo. Quinto col pollo. Vado, 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 vado. Qualcosa... Ah, per quanto ne aveva visto 700? Con le M4, quindi... Certo. Vado, comunque, in effetti, era prima. E' spettacolo. E' spettacolo. L'ha registrata? Vabbè, è uscito subito. Dioooosh! Dioosh! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.